Ehm, devo iniziare da qualche parte, no? Allora, 11 giugno, giusto? Sì. 2017, andiamo a Varano dei Melegari a vedere il circuito, il circuito, con Andrea. Ciao, ciao ragazzi, ci rivediamo là. Ci metti in due tempi, guarda. Ci metti in due tempi. Mi voleva. Mi voleva. Mi ho visto che c'è la fine. E' una parabolica? Vedi l'uscita della parabolica, però vedi la nuova variante, la prima variante, la seconda variante, non vedi la X, perché c'è il cartellone lì, posso andare giù, vedi quel coro, non vedi il faro di cavallo che è da dietro, che è quello che abbiamo visto all'ingresso, e qua c'è il donantino che è uscito qua, il giro. Non so, per me so che ci vedi le partenze, stai qua, che vuol dire la partenza, vedi la prima curva, vedi la prima curva, vedi la prima curva, vedi la prima curva. un po' di velocità e quindi un po' di percorso un po' di velocità 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 un po' di velocità